tipo io russo come una bambina è come bebi Yoda si mette così non ci fai tu non ci fai tu non ci fai tu raga ahia ci ho chiuso il video ahia tua nonna non c'è è andata via mamma chiamala pure tu manco tua nonna è chiuso è chiuso il sigillo ma invita il polipo ora ci entro bellissimo ciao il polipo come stai tutto bene è troppo ai fans ai fans il polipo vediamo se è online no 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 e allora si gioca silenzio 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 ci sono gli spiriti raddetti momenti di lag tra le sensi è bloccato no ti vedevo bloccato ti vedevo fermo alessandro viene su fortnite si sta baggando il gatto si vede pixel ecco mia mamma ciao mamma sta dormendo vai sveglia dai sveglia sveglia oh ma sei tornato michele pensavo che arriva fuori guarda quando tipo era ciccioltello eh ma manco mia madre che risponde eh purtroppo è impegnata guarda Blanchetti 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 chetti Billy Alice 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 Billy Alice oh ma c'è te rock vediamo vediamo chi c'è Billy poi bravo un autistico Gabri comunque ancora mi devi mandare il video dove fai la mossa del gomma non funziona letta da comics che ci va? io ci vado un po' uno ma è bianchissimo guarda giallo dove si è lanciata è vuoto vediamo se ce ne è altri Stranger Teens quando esce il film guarda guarda non è due non è cosa non è lui però ci assomiglia quindi si ma non è lui poi me ne fai arte di questi montaggi Davide mi ha detto ha detto mi siete sposati ma io ma io non lo riesco a vedere ma ora si è volato in aria Billy Alice tu hai capito profuso subito il gatto risponde giochiamo a fortemente aperto guarda c'è un Naruto cornuto ma dai andiamo a giocare non è uguale salvezza no donna cosa si c'è c'è la porta aperta di casa di mia donna ma non c'è un'altra ma mi ha la preferita aspetta anche qua no 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 allora senti bello è l'altro che sei andato in casa allora io non so se tu lo sai ma io faccio collezione di coltelli aiuto 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 qui si ti contiene che te lo scappi come tutti come ti giocavo stanno ammazzando l'unore c'è c'è qualcuna c'è qualcuna c'è qualcuna a casa sua si ti ho detto che io faccio collezione di coltelli no la sta sta dicendo la sta dicendo apposta la sta dicendo è al gatto aspetta no raga ho sentito aprire ho sentito aprire il portone di casa di mia nonna aspetta aspetta manu che sono i non no è non è ce n começano si aspetta non ma non non ho non uno non Ha un coltello Eh, vedi? Dai, continuo a fare Si è bloccato Che è successo? Ti hanno sparato Dai, metti fortnite A night Quindi se c'è un ladro che mi spara in casa Ha aperto fortnite Eh, là, stanno traglialdando Stanno traglialdando Mi giuro, ho sentito aprire il portone Di casa di mia nonna E c'è la porta aperta Ma non c'è mia nonna C'è Millie Chi cazzo ha aperto? Il gatto, se il gatto è stato Sei il gatto Ma il gatto era con lei Allora c'è Marco nascosto Eh, Marco Adesso non mi dicevo che lo facevo a scantare No, non penso che è sceco E poi Marco è mia nonna Chi è che mi chiamo? No, guascia Ma c'è già suba a mingiarsene Caricare di The bat No, stocchiamo all'evole Grazie 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 a tutti. 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 No, perché pensavo ci fossero i ladri, invece c'era il nonno che stava facendo avanti e indietro. Non funziona. Non funziona. I ladri. Pe 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 pe. C'è Michele C'è Ludovicas Guarda Gabbri Ho parlato come l'anno Ma ti fatti non ti mi chiede C'è che giocare a quello tu con voi Ale 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 Allora metti si qua E' letto Gabri ma Ale 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 è bloccato E' bloccato Ale Eh si vabbè Gabri Sì l'ho visto Gabri ma Male Ah eccolo Ma è ancora chiamata con te Sì lo so Avevo fatto dall'Xbox Alla presto Eh Sì l'ho visto 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 Sassuke Naruto Naruto Sasuke alessandro è morto a michelle shan c'era massimiliano visto live l'ho detto che l'ho preso io Ludovico 3000 volte Aglio Aglio Uno che l'attacca a arrabbiare Ah Messaggio Lion Pronto Asdevano Grazie Ho detto l'aveviste e ballo che t'avevo preso Che l'avevo sbloccato per xbox Grazie Sì Scusate ho un po' di covid Ma perché prima avevi la mascherina? Eh forse sono positivo Ah wow Ah non è questo Non è positiva quindi siamo un po' stosto Ma con vi stai parlando? Con Anna Ma Sant'Anna Ah Sant'Anna Eh Infatti la preghi tu Che? La preghi tu Ma perché questo è Pensano che stiamo insieme Ma ho sbloccato un xbox Ma non stiamo insieme Aspetta mi si è buggato tutto aiuto 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 Allora vi avviso io non gioco da un po' Eh a chi lo dici Domani finisce la season Davvero Davvero? E tu non l'hai giocato manco mezzo Perché sono un coniglio Ma guarda si sapeva Un coniglio Eh sì Molto molto bello Ah 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 Sì Sono rimasto sveglio fino alle tre di notte Ah Sono rimasto sveglio fino alle tre di notte Ah Ma A parlare su discone Chi è? Niente ora sto giocando Non lo so Con la zia Germana Sì Ale Dimmi Quel microfono Ah Sì Quel microfono Ok Che stai dicendo? Beh il mio è che è scemo Ah 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 e non lo vado stasera il punto ma perchè perché si io non ho fatto niente ma cosa io te cosa sai Da quando l'è così La smetto No è che mi sto fissando con gli anni Eh sì vabbè Gabri Sei un figlio di puttana se non metti pronto Ok Ecco come far mettere pronto i tuoi abis Gabri se vai Gabri se vai Io mi sono fissato con gli anime adesso Perché sei un anime baka sadu depressed uu Che sono io? Un baka anime sadu depressed uu Aspetta Mamma Mamma Scusate Mamma Che vuol dire baka Hai detto Eh Baka Aspetta che vada chiederti Che vuol dire che sono un baka Un baka da Chi è che mi chiamo? Che vuol dire che sono un baka anime sadu Aspettate Prondo Prondo Eeeh Ando Non me ne sponda mai Ehi No Non me ne sponda mai Eeeh E' mo' risposto vedi Che che ti chiamo Ale Ma poi come ti risponde Se non le funzioni E' tu Sto vediamo Ma me c'è che è ragionabile Ti parla con Quattro da uno No Vabbè Hai chiesto Chiesa Che ne sono Che merda per lui come stai giusto Eh Eh Come stai giusto Come schiamo Bene 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 Oh Ho detto bene Che sei sorda Eh Sei mannaggia ai sordi Eh A casa Dai poverino No No E' qua Che dici Sono Sono Nessun giorno Poverino Aspettate La passo No Ma male Aspettate I'm sorry Is Aspettate My Is I Eh Aspettate s e' una volta mandata via la strada siccome la ponte della vendita, toglie la pompa oh guarda la pizza dove l'ho buttata dentro il cam... dentro il cammino è rimasto è rimasto è rimasto dentro il cammino la pizza vado, la dentro l'ho lanciato il sottostante la dentro sto fumando davvero ma non c'è no c'è qua dentro non c'è allora si è bancato ho appena iniziato a dire io l'avevo lanciata la pizza rosario si sa ti sbagliato stasera con la matta e' una ventita eh che dissi mo ti chiama ma vuoi dire il rosario ma vuoi dire il rosario maria maria a 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 bella cadusa fai glielo dire che devo dire vabbè fai glielo dire buona bella cadusa perchè fa buona bella cadusa fai glielo dire ti aiuditi ahahah 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 come va con rosario male come va con rosario muniz cosa allora aspetta lo combattendo la guerra ma ci putin te ne ha cura no no la guerra no non ce ne faccio uno no che hai capito che hai capito che hai capito che hai capito Ahahahah